Buongiorno a tutti, benvenuti, sono lieta di presentare questo evento, questo tool fair educativo, questi TF Talk, siamo la seconda edizione di questa esperienza e molte delle persone che sono qui sono qui per la prima volta mentre altri no, sono qui da tre giorni perché questa è una giornata aperta al pubblico che si pone a conclusione appunto di una tre giorni in cui animatori giovanili, youth workers, educatori, formatori si sono riuniti e hanno messo in circolo delle esperienze, la città in cui tutto questo avviene non è casuale, Palermo perché Palermo è la capitale italiana dei giovani 2017 e grazie, se siamo qui è grazie alla Agenzia Nazionale per i Giovani e il Centro Risorse Salto, ovviamente più tardi alla fine di questi talk sentiremo anche Giacomo Darigo, il direttore dell'Agenzia Nazionale per i Giovani e anche Bernard Abrignani appunto dei Salto Youth Euromed, ma intanto vi volevo raccontare che cosa succederà stamani, molto brevemente perché poi sarà molto più interessante vedere le persone all'opera. Oggi si alterneranno sei esperti con esperienze e background molto diversi in questi talk appunto di 15 minuti circa, sono tutte persone che arrivano dal mondo della formazione, della educazione, alcuni si definiscono dei facilitatori dei processi di apprendimento e metteranno in circolo le loro esperienze, ci racconteranno come è possibile diciamo avere un approccio innovativo all'educazione e cercheranno anche di farci capire come l'educazione si evolve con l'evolvere della società, vedo molte facce giovani, quindi sarete immagino molto curiosi di capire come questo può avvenire anche in maniera molto divertente. Poiché mi è stato chiesto diciamo di fare anche un'introduzione a partire dai temi di cui io più mi occupo, io sono una giornalista di Rai3, sono un'inviata e mi occupo molto di questioni europee, non farò un talk come faranno gli altri, però mi hanno chiesto appunto di metterci un qualcosa di mio in questa introduzione, allora mi permetto di allargare un po' il perimetro di questa introduzione a come si forma la cittadinanza europea, come ci si forma come cittadini europei. Non sono una formatrice, sono una giornalista quindi casomai sono una informatrice diciamo, però ecco mi possono venire tante idee, non necessariamente autentiche, originali come dire, ma mutuate da chi studia questo da molto tempo e le idee per come si crea una cittadinanza europea sono anche molto alcune volte facili e simboliche, posso pensare per esempio alla creazione di un giorno di festa dell'Europa, per esempio il 9 maggio che è la festa dell'Europa, molti di voi già lo sanno, ma molti ho scoperto che non ne avevano idea in questi anni in cui mi occupo di questioni europee, che il giorno insomma il 9 maggio del 50 Schumann ha fatto la famosa dichiarazione con cui è nata la comunità economica europea del carbone, scusate, la cieca, la cosiddetta cieca, ecco il 9 maggio potrebbe essere un'idea che tutta Europa si fermi e faccia il giorno di grandi festeggiamenti, non si va a scuola, si festeggia l'Europa. Questo potrebbe essere un simbolo, un altro simbolo potrebbe essere per esempio nelle competizioni sportive, laddove sono in competizione squadre di paesi europei, per esempio cominciare a mettere la bandiera dell'Europa e magari cantare anche l'inno europeo, potrebbe essere qualcosa che coinvolge e aiuta a creare un sentimento di identità, oppure potrebbe essere trasformato il servizio volontario europeo in servizio civile europeo da fare nei paesi però non di nascita e di residenza ma altrove, potrebbe essere anche questo, un bel incentivo alla creazione di una cittadinanza europea o ancora coordinare per esempio i testi di studio nelle scuole per quanto concerne le materie europee in maniera che siano uniformi nel raccontare la storia delle istituzioni europee e magari mettere come educazione obbligatoria nelle facoltà di giurisprudenza appunto gli elementi di diritto comunitario. Tutte queste potrebbero essere idee, alcune belle, altre magari meno, però sicuramente tutte cose che possono contribuire a creare questo sentimento forse un po' perso negli ultimi anni, però secondo me niente di tutto questo può essere risolutivo se non si percepisce quanto la realtà stia cambiando rapidamente, a una rapidità in cui noi, persino noi giornalisti, non riusciamo a raccontare integralmente. Mi viene in mente per esempio quello che diceva lo storico Tyler a proposito dell'anno 1917, l'anno in cui diceva se Napoleone fosse tornato in quell'anno. All'inizio dell'anno avrebbe trovato esattamente tutto uguale a come l'aveva lasciato. Se fosse tornato sulla terra alla fine del 1917 non avrebbe riconosciuto nulla. C'era stata la caduta dello zar, la rivoluzione bolshevica, gli Stati Uniti erano entrati nella grande guerra, l'Europa in qualche modo si avviava verso un tramonto e tutto era cambiato come diceva Benjamin, tranne le nuvole nel cielo. Ecco noi rischiamo cent'anni dopo di vivere esattamente un anno del genere. Nel giro di un anno e mezzo in Europa sono stati costruiti nove muri interni all'Europa, uno dei paesi diciamo che da 40 anni era membro dell'Unione Europea non c'è più, il Regno Unito, e si sono risvegliati in maniera in alcuni casi molto preoccupante movimenti nazionalisti che minano l'unità e l'integrità del vecchio continente. Allora io penso e muto un po' dal linguaggio scientifico diciamo questa mia finale riflessione, mi vengono in mente le parole di Thomas Kuhn che è uno dei divulgatori scientifici più conosciuti, uno dei suoi libri più famosi è La teoria delle rivoluzioni scientifiche e che c'entra la scienza con l'Europa. Secondo me c'entra perché cosa diceva Kuhn? Diceva che uno scienziato è pronto per una rivoluzione scientifica quando è in presenza di una anomalia, quando si registra un'anomalia di sistema, allora lì da quella anomalia, da quel cambio di paradigma può arrivare una rivoluzione scientifica. Io penso che oggi gli osservatori e i politici dovrebbero essere come dei piccoli scienziati e accorgersi che il paradigma è cambiato e essere in grado di essere flessibili al cambiamento. Guardate cosa sta succedendo in Catalogna. Se non ci si rende flessibili ai cambiamenti e si continua a interpretare le cose con i vecchi stilemi, secondo me l'Europa avrà tutta una strada in salita davanti. E allora siccome San Marino si parla di formazione e io sono una invece che si occupa di informazione, concludo dicendo che c'è un solo modo per star dietro a questi cambiamenti repentini del nostro continente, seguendo il vecchio detto che chi non si forma si ferma e siccome l'Europa va a duemila noi dobbiamo formarci per star dietro ai cambiamenti, allora siccome penso che chi è in sala stamani, soprattutto i più giovani, non si informino più attraverso i canali tradizionali, il Corriere della Sera, la Repubblica, Rai 3, ma tutti noi, mi ci metto anch'io in parte, apriamo lo smartphone e scorriamo il wall dei nostri diciamo feed su Facebook, ecco lì è tutto uguale, non ci sono gerarchie. L'unico suggerimento che io vi posso dare è di tenere a mente la parola, l'acronimo TG come il telegiornale, ma che invece significa tempo e gerarchia. Quindi dedichiamo tutti un minuto in più di tempo quando apriamo lo smartphone a capire se sto leggendo una pagina di Lercio.it oppure magari sto leggendo la CNN perché capire di che cosa stiamo parlando e la G sta per gerarchia delle fonti, se sono in procinto di aprire una pagina di un blog o di un emerito sconosciuto che si può essere inventato tutto, oppure di un giornale o di uno studioso o di un pensatore che ha avuto un filtro prima di scrivere quella cosa. Ecco, tempo e gerarchia sono l'unica cosa che abbiamo gratis, tutti noi a disposizione per essere più formati, informati e quindi in definitiva per essere cittadini europei migliori, ma non soltanto europei, per essere cittadini del mondo migliori. E qui chiudo.